con la Befana che in che rapporti sei? con il ricordo della Befana? in che senso che la Befana in che rapporti sei? volevo dire che il ricordo della Befana nei tuoi confronti com'è? cosa ricordi quando eri ragazzo? come ricordo è tragico a me la Befana si non sono mai avuto d'accordo perché? mai ma guarda una cosa perché mio padre è pensionato che lavora nel ferroviario a ferroviario dello stato? ero il capo treno e allora avevo la Befana dei ferrovii ti puoi immaginare che Befana aveva? ogni anno un trenino eletto era questa fantasia che tenevano tenevano questa fantasia proprio capito? io non dovevo più la soppella ogni anno avevo la trenina eletto avevo la trenina eletto e non sapevo più cosa c'era pazza e allora infatti a 13 anni 14 anni avevo chiuso la Befana dedicato proprio perché io a scrivere una lettera verso gli 11-12 anni vedevo che non gagneva mai sulle case sempre la casa mia era la centrale del ferroviario stato allora ha scritto una lettera per un fa breve però hai capito che mi ha la figlia che è buona caro Befana a me i trenini elettrici mi piacciono non è che dici ma allora di nuovo mi scrive perché non ti piace mi piace però per favore se puoi e cose potrei avere a me mi piacciono i trenini elettrici scrive per carità però potrei avere volendo una cosa una pistola perché erano tutti gli amici e gli amici che giocavano tutti quanti dopo pomeriggio no? mi chiesi se ci paravo con fucili e mi chiesi se vuoi rimanere con questi trenini elettrici allora io cioè poi mi toccavi e giocavo proprio poco quando ci mettevamo tutti insieme io giocavo massimo tre quattro minuti perché il ruolo mio era che lui aveva un quadrone del ferroviario e allora mi metteva una rete e una scrivania così no? e tutti loro giocavano poi arrivava uno a due mesi e faceva solo che? arrivato a me e diceva capo c'è stato un assalto al treno e diceva no 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 e io sono rimasto traumatizzato voi rite ma questa cosa da bambino non ci rimane male gli disse guardate capo hanno fatto un assalto al treno e io la riciclamento chi è stato? e gli diceva ringo la sua banda e i basi maledetti avvertite lo sceriffo maledetti avvertito lo sceriffo a quello punto tra sei nato a micro mio che facevo sceriffo perché tennevi il pistolo due pistole nemmeno una dove diceva dici nei treni elettrici a quello due pistole ma potevi portare una pistola a me agli sui treni elettrici? senti ma poi l'ha beffata al risposto dopo questa tua lettera? ma che no io dopo che ho giunto l'ultima volta con il trenino elettrico l'ha scritto e l'ha indicato eh l'ha scritto l'ha beffata ma allora sei scemo oh ecco il sangue l'ha scritto chiaro pistola non è che si confondi con il trenino è nata parola proprio e tu mi porti un altro trenino elettrico qua allora mi faccio scemo grazie